Viene soltanto cinque anni nel cannello, non sono soltanto nel cannello di Vigioni. Soli cinque anni. Ecco, grazie mille a degli attori stupendi di questo ideale spirituale della porta all'identificazione con Cristo, non solo io vivo, ma è Cristo che vivo in me. Ecco, in questo tre arco di vita...